Vediamo un po'. Piano. È interessante. Sembra buono. E sembra essere una resistenza da 15 ampere. Chi l'avrebbe mai detto? Adoro la conoscenza. A proposito, che c'entra Sonic con le lettere di reclamo? Come lei sa, anche molti nostri dipendenti sono pazzi di Sonic. Alcuni di loro si sono licenziati per dedicarsi a fan club di Sonic e gli operai di reparto assemblaggio passano tanto di quel tempo a parlare di lui che lavorano distrattamente.